benvenuti al grande vuoto questa è una mostra che apre un nuovo momento storico stiamo stiamo tutti uscendo da un periodo difficile e quindi perché non iniziare da se stessi da un momento di riflessione da un momento di pausa il grande vuoto è questo è un viaggio di suono con vittorio montalti e con gloria campaner e che vi porta a vedere gli oggetti della collezione del mao in una maniera inedita in maniera straordinaria in maniera così semplice che sembra assolutamente invece irreale quindi vi invito a venirci a trovare è solo l'inizio e vedrete già dei grandi cambiamenti grazie 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 grazie